E' certamente uno dei campi sportivi più suggestivi della regione Campania. Immerso nella splendida macchia mediterranea del Parco Nazionale del Vesuvio, il campo sportivo di Terzigno, situato in località Campitelli, è stato recuperato e sottratto al degrado grazie alla tenacia del sindaco Francesco Ranieri. Domenica si respirerà aria di festa con il ritorno dei rossoneri sul campo in erba sintetica. Sono state tantissime le difficoltà, era il mio sogno nel cassetto e ci siamo riusciti. Finalmente domenica ci sarà la prima gara ufficiale, abbiamo ottenuto le autorizzazioni della federazione e quindi ci prepariamo a rivivere quei favolosi momenti che ormai mancavano da oltre 15 anni. Si torna a casa, quindi è giusto dire come ci sono tantissimi striscioni per il paese. E' stata davvero dura, la burocrazia purtroppo è tantissima e veramente alla fine ci siamo riusciti perché ci stavamo lavorando da tantissimi anni. è situato forse in una location più bella che si possa trovare all'interno del parco nazionale del Vesuvio. Siamo a due passi dal sentiero numero 11, dal museo emblema, ma soprattutto c'è una vegetazione davvero unica e quindi da oggi in poi dovremo ricustodire anche lo stadio comunale. Quindi questa è veramente una grossa soddisfazione dell'amministrazione Ranieri. Durante i lavori di riqualificazione non sono mancati ostacoli e difficoltà, ma il progetto rappresentava una delle priorità del programma elettorale di Ranieri che da nove anni guida la città di Terzigno. Era uno dei punti più importanti del programma. Ci siamo riusciti alla fine, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. È stato davvero difficoltoso, però noi non ci arrendiamo mai perché siamo consapevoli che la passione, l'amore verso questa terra può tranquillamente superare qualsiasi tipo di ostacolo. I lavori non si fermeranno qui, come sottolinea il sindaco. Questo è solo il primo passo di un progetto molto più ampio. Adesso questo è il primo step di lavori, quindi l'abbiamo reso agibile fino alla categoria dell'eccellenza. Poi dobbiamo continuare con le Torri Faro, quindi c'è già un progetto da approvare e quindi anche recuperare le tribuni che in tutti questi anni purtroppo sono state vandalizzate. Quindi dobbiamo completare questa meravigliosa opera che già in questo momento si presenta davvero fantastica.